Voglio farti una domanda, magari un po' scomoda, però è utile, molto utile. Ci sono delle parti di te che non accetti? Delle parti nascosse, delle parti profonde che non riesci ad accettare di te stesso e che magari cerchi di nascondere agli altri perché ti vergogni, perché sono delle parti delicate, sono delle parti traumatiche che rappresentano un trauma del tuo passato. Ecco, quelle parti si manifestano attraverso i tuoi comportamenti, attraverso le tue azioni, attraverso i tuoi pensieri. Magari non le fai vedere all'esterno, ma è utile che tu le faccia vedere a te stesso. Quella parte che Jung chiamava ombra, l'archetipo dell'ombra, cioè la parte più tua nascosta, più profonda e anche più sconveniente, è dentro di te e vorrei che tu la osservassi oggi, osservassi anche quella parte di te e imparassi ad accettarla, anzi dicessi a quella parte di te io ti accetto, sono qua, ti vedo, so che ci sei, so che sei la mia parte ombra.